Cosa è successo? Cosa c'era nell'acqua all'interno, all'ingresso della diretta? Del panettone! Esatto, perché abbiamo appena sentito Carol of the Bells, che tra l'altro è stato anche utilizzato in... Credo tantissimo, sempre, ovunque. John Williams pure l'ha inserito dentro a... ma m'ha perso l'aereo. Mi è venuta voglia di fare una puntata natalizia, non sai quanto, non lo sai. Ma di chi è la scelta? Stefano Di Pietro, che abbiamo al telefono, stavo dicendo, l'abitudine. Ma sei qui, in studio, benvenuto. Buongiorno. Ciao, grazie di avermi invitato, un piacere e un saluto a tutti. Ma la scelta è di Stefano, ma la composizione è di esattamente... io pavido, vado su Q contradduttore. Maikulo Dmitrovic Leontovic. Esatto, è bravissimo, è bravo, dovrà essere giusto. È il guadualt duttore, perfetto. Stefano, perché hai scelto questo brano? Perché è stato appunto composto da un compositore ucraino e appunto siamo qui a parlare del mio documentario sull'Ucraino. Esatto, esatto. War on Education. In Ukraine, now, we see that there are deliberately bombing educational institutions. One of the particularly devastating impacts of the war in the education system has been the closure of two-thirds of all kindergartens across the country. 20,000 recorded and verified kids who were deported, forcing me to Russia, since the full-scale invasion started. Mr. Putin likes to say that he brought stability to the country, but his stability was given at the price of freedom. Il film, come detto in apertura, è in programma il 26 di ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione, o anzi, nel Festival Alice nella Città. Come ho detto anche prima, è molto spesso un festival che allunga e distanzia il festival ufficiale, a grandissima qualità da moltissimo tempo, anche un grande lavoro di selezione e tu sei in concorso. Negli speciali. Negli speciali. E effettivamente è un prodotto veramente molto speciale, sia per la fattura, sia per la vicinanza con il pubblico del festival, ma è impossibile non rimanere, come dire, Io mi sono veramente molto alterato, molto arrabbiato come Italia, più che altro, perché si parla del valore che si dà all'istruzione in un tempo presente, siamo adesso, anzi esattamente. 2023, insomma, mi pare che le cose siano state girate soprattutto l'anno scorso. 12 mesi fa? Sì, abbiamo iniziato all'estate del 22 e abbiamo finito le ultime serie di prese a novembre del 2023. Quindi letteralmente in mezzo alla guerra. E la situazione delle scuole in quel contesto è sicuramente molto, è stata cruciale, anche strategica in determinati aspetti, ma nel documentario vediamo quanto interesse c'è nel tenere le persone, le scuole aperte, sicure, i bambini al sicuro nelle scuole e continuare la missione educativa. Senti Stefano, io vorrei un attimo capire, immagino che questa guerra abbia da un certo punto di vista anche scatenato, vorrei dire una cosa che forse può sembrare provocatoria, però scatenato creativamente molte persone anche in Europa in particolare, secondo me, perché ha dato un po' la possibilità di approfondire alcune tematiche e trovarsi in maniera più diretta davanti ad un conflitto, non perché sia l'unico assolutamente, non perché sia l'unico in questo momento, anzi a maggior ragione nel frattempo è anche peggiorata la situazione, però a livello simbolico è un conflitto particolare per l'Europa, ovviamente. Come è nata la tua voglia di raccontare questa parte di quel conflitto e poi come hai gestito la parte pratica? Perché secondo me quella è forse stata la cosa più complessa fra le altre. Allora, la cosa è nata da una chiamata di aiuto di una insegnante ucraina che ha chiesto aiuto per la stampa dei libri di storia al direttore dell'Euroclio, che è l'European Association of History Educators, e lui, l'organizzazione con cui collaboro su vari progetti, mi ha detto se volevo aiutare a fare la fundraising, a fare qualche cosa per loro, diciamo. E ho fatto un corto che si chiama Books Not Bombs, e questo era al centro della campagna e ha aiutato appunto, ho avuto buoni risultati, ha aiutato la possibilità di stampare i libri. E questa problematica dei libri mi ha fatto poi approfondire qualcosa di più ampio, nel senso che ho intervistato tante persone per quel progetto, e ho capito che c'era un attacco sistematico all'educazione. Perché Radioelettrica, anzi, Radioelettrica parla generalmente di cinema in determinate situazioni, letture metropolitane nello specifico parla di libri, ma in questo caso i libri sono stati usati letteralmente, l'istruzione, ma proprio anche praticamente il scrivere o riscrivere un libro di storia è stato come usare un'arma. Perché? Sì, perché poi tu fai, adesso ti lascio la parola, fai anche un confronto rispetto a come viene invece gestita e utilizzata l'educazione in Russia in questo momento. Eh sì, c'è proprio un grande contrasto e là faccio vedere una delle parti più forse scary, diciamo, è quando il ragazzo russo, anonimo ovviamente per motivi di sicurezza, giunge in un appartamento dove apre il libro di storia. Appena comprato. Appena comprato, fresco di stampa, è in cui si legge, è obbligatorio in tutte le scuole in Russia, è unico testo utilizzabile. Unico, unico. In cui si legge appunto obbligatorio lo studio della guerra in atto, quindi cosa che per esempio molto spesso non si fa, nel senso che sono conflitti aperti, si aspettano un po' gli storici per capire come gestire certe cose, invece quella è pura propaganda, cioè si parla dell'operazione speciale, non guerra, del ritorno della Crimea, i nazisti dell'Ucraina, i neonazisti dell'Ucraina, quindi fondamentalmente i russi sono soggetti a questa propaganda, anche e soprattutto nelle scuole. e poi si spiega abbastanza bene perché, ovviamente, le difese sono molto più basse da bambini, quindi se si riescono a inculcare determinati valori, poi questi rimangono in età adulta, o sono comunque molto difficili da cambiare. Soprattutto l'ho imparato a scuola. Sì, diciamo che è considerata verità, nel senso che è chiaro che la storia da un punto di vista critico, per chi l'affronta dal punto di vista critico, come dicono più voci ucraine in questo documentario, serve a sviluppare il senso critico, cioè serve a formarsi anche un'opinione propria e anche a vedere le cose attraverso varie lenti, le lenti di chi vince, le lenti di chi perde, delle vittime, dei carnefici, cioè c'è tutta una logica, dirlo la storia. Tu lo sai, insomma, tu sei uno storico, giusto? Filosofo. O un filosofo, ok. Piano con le parole. Che però c'entra pure quello. Sì, no, però il discorso è lo stesso, certo. E quindi se tu elimini tutto il contraddittorio, chiaramente diventa una verità unica. Io metterei la seconda scelta di Stefano e poi riprenderei il discorso della logistica, perché secondo me anche quello è stato interessante. Eh sì, 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 perché è sicuramente poco problema, poco facile reperire e avere anche in studio una persona che ha realizzato un documentario in tempo di guerra, in scenario di guerra. Ce l'ha, eccoti, ecco, quindi ti spremeremo di domande. Anzi, se volete partecipare, voi ascoltatori e ascoltatrici, 351-5241-101. Mi riferisco primariamente a chi ascolta questa trasmissione in diretta, ma se volete, anche stiamo registrando questa intervista, se volete aggiungere e chiedere qualcosa nei commenti, sarà mia cura girare a Stefano e soprattutto invitarvi a trovare e seguire i lavori di Stefano Di Pietro, ma soprattutto seguire War on Education in giro, perché Roma è soltanto l'inizio. Ma intanto, la prima scelta, appunto, Carol of the Bells, contestualizzata, e anche con una certa teatralità, perché non ci aspettavamo. Questa cover di Imagine, tu adesso devi dire il titolo, anzi, il nome dell'artista. No, il gambetto. È assolutamente incredibile, tra l'altro molto commovente. Ci provo io con... Stiamo ascoltando, stiamo per ascoltare la cover di John Lennon, ovvero Imagine di Chris Clawford. Sembrava. Chris, dimmi se... Mi sembrava. Non penso che si possa lamentare, quindi va bene così adesso. Vediamo se chiama. Insomma... Ma che vocetta, eh? Sì, ma anche che... Che roba. Molto bella. Justamente, commentavamo, decidere di fare una cover di Imagine, è già di per sé, insomma, un lancio un po' nel buio. Però mi sembra che questa abbia il suo pregio, abbia il suo valore. Abbiamo in studio ospite Stefano Di Pietro, l'autore di World on Education. A proposito di colonna sonora, ho un foglietto qui davanti, con degli appunti e complimenti per la colonna sonora. Molto bella. Perché è molto discreta, ma comunque sembra quasi una coperta di tensione. Non so se è anche molto simile al suono che sentivi lì. Perché ha qualcosa di dronesco, per invece andare verso la musica, c'è qualcosa anche di, appunto, elettronico, vagamente Nine Inch Nelliano, Trezno e Ratticus Rossi ormai hanno quel tasto lì che quando gli arriva una commissione facci una colonna sonora e parte la ronza. Ma comunque, in questo caso, come avete scelto questo? Che suono aveva? Allora, intanto parliamo di Matteo Ruperto, che è il compositore, che ha fatto un ottimo lavoro. Sì, allora, hai colto proprio tutti i riferimenti principali. Ottimo. E anche perché loro due sono i miei eroi. Abbiamo utilizzato dei riferimenti di questo tipo e abbiamo utilizzato proprio dei... Siamo partiti da dei suoni reali. Ah, ok. E si vede, per esempio... Cioè, una cosa ricorrente è le sirene. Ah, sì, è vero. Il suono che sa... Quello è... Sono le sirene che partono continuamente in Ucraina per... segnalano le bombe. Definiscimi il continuamente. Quante volte tu sei stato in Ucraina e quante volte al giorno senti... Eh, può capitare più volte al giorno o non capitare per vari giorni. Ecco, dipende un po' da cosa succede. Certo. Seguiamo questa linea. Torniamo appunto all'esperienza fisica in Ucraina. Com'è andata? Quali sono state le cose che ti hanno colpito di più? E come anche hai vissuto la relazione, anche se temporanea, diciamo, con le persone che hai intervistato, ma anche quelle, insomma, che magari non sono comparse, ma che erano lì e che hai conosciuto? Allora, l'esperienza... Intanto ringraziamo anche... Ringraziamo il team Gianmarco Duina. È la prima persona che è andata lì, perché praticamente nell'estate del 2022 stavamo pensando... Neanche c'era una sceneggiatura, c'era un'idea, eccetera, eccetera, e lo chiamo per collaborare a questo progetto e mi dice, guarda, in realtà sto andando a una missione umanitaria in Ucraina adesso. Allora ho detto, guarda, se c'è un camera, mi ha detto, guarda, organizziamo subito una direzione in remoto, ho scritto... ho fatto i contatti, ho scritto le domande, insomma, ho gestito la shot list e abbiamo fatto... è partito così. Quindi alcune cose sono state fatte in concomitanza con missioni umanitarie. Ok. Perché c'era il lascia passare di questo tipo di attività. Poi quando sono andato io siamo andati col Pullman e... Quindi tu non sei partito dall'Italia? Sono partito da Lublin. Ok. Da Polonia. Dalla Polonia. Sì, vabbè, sì, in realtà sono partito da Amsterdam, però sono andato in Polonia e poi dalla Polonia Lublin è uno dei posti più vicini al confine dove prendere un mezzo per andare... che deve essere tutti di terra, ovviamente. Esatto. C'è il treno che però si riempie molto, sono pochi treni che si riempiono subito per le persone che magari tornano e c'era il Pullman quindi abbiamo preso quello e sono state 16 ore fino a Kiev e non è facile nel senso che comunque si vedono in strada sia cararmati sia di cose distrutte e salgono in militari ogni 3x2 diciamo e quindi la tensione è abbastanza alta. Salgono a controllare, intendi? Sì, perché ovviamente si può essere a parte la Dogana insomma una volta entrato si sta in una zona militarizzata l'Ucraina ovviamente sta in guerra e tutto quello che abbiamo fatto è stato un po' c'era un po' questa situazione devo dire di tensione la popolazione è molto preoccupata tra virgolette anche rispetto a noi non sanno chi sei non sanno che ci fai lì non esistono turisti ovviamente poi magari vedi il tesserino da giornalista il press card cose così e ti ringraziano e cambiano completamente atteggiamento perché capiscono che se ne parla e una delle cose più importanti che hanno fatto secondo me come governo come popolo è stato proprio quello di capire l'importanza dell'informazione tutti hanno capito che se ne deve parlare se per sopravvivere come nazione come piccola nazione contro diciamo un Golia dovevano fare in modo che ci trovassero alleati in qualche modo che si parlasse e questo effettivamente lo fanno lo riconoscono anche la popolazione diciamo non colta tra virgolette capisce che è importante e quindi ci hanno portato abbiamo avuto la grande differenza c'è stata tra magari il ministro dell'educazione che abbiamo intervistato tra l'altro e persone semplicissime che dicono veni con noi ci facciamo vedere casa che è quello che è rimasto esatto oppure insegnanti elementari che ti dicono vieni con noi organizzazioni di politiche grassroots proprio molto piccole e quindi abbiamo avuto un mix di persone credo di tutte le diverse provenienze che arricchiscono la storia infatti tu sei rimasto scusami sei rimasto in contatto con alcuni di loro sì sì siamo rimasti in contatto e dobbiamo organizzare un po' la proiezione in Ucraina ovviamente ci sono dei problemi mi chiedo quali perché ovviamente è una delle pensiamo per un riferimento che noi conosciamo ci sono tutte le regole del covid cioè sembramenti coprifuoco tutte queste cose sono le stesse che accadono nella guerra e quindi non puoi fare proiezioni nel senso la maggior parte dell'Ucraina a meno che non si organizzano in certo modo io sono andato a un evento con il ministro dell'educazione c'era anche la first lady ed era in un bunker 100 metri sotto terra e c'erano tantissime telecamere per poter proiettare la cosa nessuno poteva condividere niente della location fino a all'evocazione fino a qualche ora dopo e adesso bisogna capire com'è la situazione lì quello che si può fare tra l'altro una cosa che sicuramente vi colpirà se vedete questo documentario lo vedete in modo di vederlo magari dopo ne parliamo è che per esempio fra le cose che quando si costruisce o si adibisce una scuola si dà l'avvio alle attività di una scuola ci sono ovviamente una serie di requisiti anche in Italia per qualsiasi ci devono essere i bagni fatti così e loro devono avere per esempio obbligatoriamente il rifugio sotto e infatti spiegavano le insegnanti appunto che avevano cercato anche di rendere in quel caso si trattava di una scuola privata se non sbaglio scuola privata poi magari la differenza in questo momento ce la racconti un attimo tu perché insomma immagino che non sia propriamente come da noi adesso la scuola privata e la scuola pubblica è un po' diverso e che insomma cercavano di rendere questi rifugi il più possibile accoglienti e avevano messo i lettini diciamo in una parte più bassa della scuola anche perché non sentissero i bambini mentre dormivano i rumori delle appunto delle esplosioni e che fosse quello effettivamente un momento di riposo cioè ci sono tutte queste piccole cose che a noi possono sembrare diciamo calate nella nostra realtà delle cose normali che il bambino debba stare tranquillo che il bambino si debba divertire che debba giocare che debba studiare voi proiettateli in un mondo in una situazione come quella della guerra ecco è una delle cose che appunto mi hanno fatto bollire il sangue nelle vene è che appunto durante una guerra in un contesto appunto di costante tensione e anche paranoia ma soprattutto grandissima tensione sempre le scuole sono aperte noi invece durante il covid abbiamo una delle primissime cose la prima cosa che abbiamo sacrificato abbiamo chiuso la scuola e poi non abbiamo lavorato per riaprirle subito qui invece banalmente abbiamo visto nel tuo documentario si vede proprio il lavoro di modificare nel più breve tempo possibile in quanto bene primario la situazione magari non si va in palestra si sacrifica a malincuore c'è la testimonianza del preside e professore di educazione fisica che gli piange veramente il cuore e non solo a vedere la palestra appena fatta era veramente nuovissima tra l'altro pure questo fa bollire il sangue perché vediamo le palestre nostre invece sono sembrano userò un termine orribile ma sembrano bombardate isolare cadono in testa gli studenti ma si sceglie di spostare la palestra o comunque le attività scolastiche in generale in un altro contesto più sicuro e più migliore più controllato quindi anche questo i confronti sono automatici il confronto anche con la situazione in Medio Oriente è altrettanto facile ma perché non c'è proprio più la scuola lì la questione è diversa e non mi andrei neanche a infilare in questo ginebraio ti chiederei però invece per esempio il confronto con la Russia tu sei stato cioè la parte girata a Mosca eri tu presente eri tu che camminava in una nevicata questo pure è vero no 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 in Russia abbiamo sentito i giornalisti che non sono riusciti ad entrare estremamente sono ancora sotto diciamo rischio serio no no siamo riusciti grazie a Tamara Edelman che è presente nel documentario che è un'attivista storica russa molto in vista che è ovviamente rifugiata in Europa e che è una produzione russa quindi dei ragazzi che vivono fuori dalla Russia però non sono ancora compromessi ufficialmente quindi un cameraman è riuscito a rientrare a Mosca e a fare le riprese che abbiamo chiesto insomma a distanza dirigendo quindi no appunto invece la differenza è che allora in Ucraina c'è una una riforma dell'educazione proverò a dire addirittura nuova ucrainska scola ok che è la new Ukrainian school nuova scuola ucraina che è la riforma che è nata dopo l'euro reumiden quindi 2013 2014 che è sul pensiero critico cioè tantissimo incentrata più che sul nozionismo che poi appunto possiamo parlare anche di questo nel sistema italiano quando è tutto ancora basato sull'imparare i fatti i dati il telegattone il quizzone ma invece appunto studiare le fonti capire diversi punti di vista differenza tra fatti e opinioni che appunto si sta implementando che è stata rallentata per la guerra ma che è una priorità anche di di Oxen Lisovi con cui ho parlato che è il ministro delle istruzioni tra l'altro nel documentario tra l'altro nel senso ci credeva tantissimo quello bellissimo quello devo dire bellissimo che sia il ministro guarda io non la darei per scontare questo fa no questo questo è stato uno dei incontri più importanti per me ovviamente è stato questo poi ho parlato anche con Lilia Grinevich che è l'ex ministra dell'istruzione non siamo riusciti a includerla per motivi di perché era un po' troppo diciamo difficile seguire anche questo cioè i dettagli della riforma insomma magari ci sarà spazio in altri progetti però ho parlato anche con lei e appunto con il ministro di ora e c'è una missione totale che in cui credono queste persone pienamente e quest'uomo con carisma incredibile raccontava quello che stanno facendo e appunto ti fa rabbia pensare a quanto l'educazione in questo caso all'educazione e il senso di Europa anche questo anche l'Unione Europea quello che rappresenta quello per cui è stata creata che ci viene ci ritorna in faccia fortemente dopo questa nel corso di questa guerra perché appunto in sostanza loro gran parte cioè il trigger nel 2014 è stato questa possibilità di unirsi all'Unione Europea e il rifiuto di Yanukovic la loro presidente di sottoscrivere questo accordo e mentre il popolo voleva fondamentalmente unirsi all'Unione Europea e questi sono stati in piazza e sono stati uccisi cento persone sono state uccise in piazza e da lì poi Yanukovic è andato a Mosca perché era un pupazzo di Putin e sostanzialmente hanno invaso la Crimea quindi da lì quindi attenzione anche ricordiamoci che la guerra non è cominciata nel 2022 ma nel 2014 grazie per aver aggiunto questo livello europeo perché appunto la mia rabbia era molto circoscritta al sistema paese però noi non facciamo parte soltanto del paese Italia siamo una situazione una realtà più larga anche la nostra voce deve essere rivolta sia ai nostri governanti sia a tutto al a tutto il gruppo di cui facciamo parte come dire l'aderenza all'Unione Europea ha tutta una serie di valori e di significati che noi non abbiamo percepito nella maniera giusta non ci sono non so come dire mi scoccia anche molto che si possano comprendere solo per contrasto cioè per per chi invece non c'è e vorrebbe esserci perché questa è una cosa chiaramente molto immatura da parte nostra come popolo cioè non possiamo pensare ah beh vedi perché loro vorrebbero starci perché cioè lo dobbiamo sapere perché se siamo già dentro è perché c'è una serie di valori comuni che dovrebbero essere ben chiari comuni un problema diciamo di base terza scelta musicale andiamo su un gruppo italiano ma che pure lì sulla pronuncia c'è della discrepanza andiamo con loro sono i Moneskin con la torna a casa eppure questa non è una scelta banale sparire come va i Moneskin parliamone ma secondo me perché sono una una band di ragazzi che merita italiani di Roma si faranno sono emergenti sì ma perché sono giovanissimi nonostante abbiano un successo globale hanno 23 anni adesso hanno cominciato molta molta fortuna e niente secondo me e anche vorrei forse un vorrei che tornassero a cantare anche qualche pezzo italiano perché adesso perché secondo me io ho sempre stato sostenitore della difficoltà diciamo di cantare in italiano nel rock perché hai mai cantato rock in italiano un pochino no non in italiano in italiano no appunto in inglese sì però però il problema appunto con l'italiano è che pochissimi sono riusciti a cantare rock a fare delle liriche con una metrica interessante in italiani verdena forse gli unici che poi partivano che però fanno tipo l'inglese italiana è una cosa strana mentre invece loro tra le doti incredibili sentono i pezzi e ci sta ci sta l'italiano quindi complimenti speriamo che cioè nel senso che non si americanizzino troppo o non vengono deitalianizzati perché dall'Italia arrivano delle spinte ma no 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 sì ma perché purtroppo sono molto più apprezzati fuori gli italiani non prima il mio riferimento la mia battutina è perché Stefano ha un passato molto presente nella nostra memoria nei nostri ascolti perché sei sei stato sei bo non lo so cantante ma per piacere adesso poi sì però vengo dal mondo della musica diciamo più o meno l'impegno totale quasi nel cinema viene da l'ultima volta ci siamo visti cioè dieci anni fa esatto quindi da lì ho fatto un passaggio diciamo dalla musica alla composizione per film all'installazione multimediale alla regia in questo dieci anni fa se siete curiosi e curiosi approfondite Stefano Di Pietro ha anche un sito internet piuttosto puntuale quindi andate una delle tante cose ne parlavamo fuori onda è la il senso di orgoglio una delle frasi che mi sono proprio appuntato è l'insegnante della scuola d'arte che tra l'altro è operativa non è chiusa di nuovo una delle frasi che mi ha colpito di più è non gli daremo questa soddisfazione di arrenderci e si riferisce ai russi resisteremo e lo dice in un contesto appunto di cultura di arte abbiamo parlato di libri di scuola che vengono cambiati e scuole che vengono modificate per continuare a lavorare un'altra un'altra cosa che mi ha molto impressionato è sempre quando segui le persone in quel che resta delle scuole delle case c'è una cura nel rimettere le cose a posto come se la casa fosse ancora integra appunto c'è una signora che rimette le pietre per chiudere la porta chiudendo una porta e le mura intorno la porta si stacca la richiude con molta cura ma soprattutto rimette vicino alla porta quasi a sostegno della stessa delle pietre ed è appunto anche il sintomo di quanto è viva l'immagine di questo documentario ma anche quanto queste immagini dall'Ucraina un po' facciano effetto per quale motivo ha dovuto guarda mi fa molto piacere che lo dici perché ovviamente sono una di quelle cose che durante la produzione non capivano le persone perché ovviamente è stato un processo abbiamo fatto anche un pre-screening con molti esperti hai visto il rivisto il materiale e quella era una cosa che invece quella e un'altra scena che faccio un quiz se puoi riuscire a indovinare per me erano fondamentali perché quello ti fa vedere anche la determinazione di una cosa che non ha senso quella donna sta mettendo a posto una cosa come perché è un senso di casa cioè sta come se chiudesse la porta la porta non c'è cioè la porta si toglie quelle pietre si tolgono quindi come l'ha tolte lei le può togliere chiunque altro però lei nella sua routine cioè rimane legata a questo senso di casa e fa questa gestualità questa ritualità che secondo me ha un significato enorme sì sì assolutamente è un'altra qual è un'altra scena che potrebbe essere sembra meno importante ma secondo me importantissima vediamo se viene allora io qui c'ho una frase che ha detto Flavia sulla nevie a Mosca ma non credo sia quella perché appunto nevica tantissimo e quindi anche il fare tutto questo in un contesto che non è climaticamente quello nostro non è che in Ucraina poi faccia caldo non fa caldo quindi c'è una resistenza assoluta una determinazione molto forte una motivazione molto forte a resistere anche adesso sono ingarellatissima con questo quiz una scena che teoricamente non serve a niente c'è una scena che dice ok non stanno facendo niente legato alla storia il giro della scuola no quello ha un senso la maestra presenta addirittura le cuoche quando preparano da mangiare brava esatto la scena del pane che è lunga è un minuto di quella scena lì ma secondo me quella scena è fondamentale perché io ho pensato innanzitutto che cose buone come sembrano buone e come sembra e quanta cura quanta cura nel fare una cosa che poi in realtà ho fatto anche un paragone un parallelo con la mensa di mia figlia a scuola perché ho fatto un po' il collegamento perché un altro problema insomma anche delle nostre scuole a volte è un po' la gestione dei servizi non perché uno voglia fare quello schizzinoso ma a volte succedono cose abbastanza improbabili piume dentro ai piatti vabbè cose così che ovviamente non è colpa di qualcuno è diciamo l'incuria generale dei servizi ecco che è generica insomma in Italia e queste donne che appunto ci mettono la cura a fare ogni singolo paninetto su cui sopra mettono il formaggio è vero è una bellissima scena secondo te quello il senso ci sono vari significati sicuramente la mensa credo che per tutti noi sia un'esperienza formativa ci ricorda ci porta immediatamente all'infanzia e poi è un momento in cui appunto si vede anche l'umanità la dolcezza il cibo è anche è anche quello e quindi ed è un momento anche per riflettere in qualche modo per far lasciare le emozioni diciamo libere sì io ho pensato vedi quante cose sempre con quella scena lì ho pensato per esempio anche alla a quella signora che si occupava di mia nonna tanti anni fa che era di origine è tuttora di origine ucraina e mi ricordo esattamente che lei ogni tanto ci portava queste cose che faceva con tipo dei dolci iper lievitati perché una caratteristica proprio credo della cucina insomma ucraina sia proprio i lievitati a parte la questione del grano che insomma tutto il pane è una cosa diciamo tipica no che faceva e questi mega lievitati questi dolci e ho fatto anche lì il collegamento quindi vedi in realtà quanto siamo diciamo anche connessi a questo popolo il giallo della bandiera è il grano esatto esatto bene abbiamo credo raccontato tutte le cose spoiler tutte le cose per cui prendere alzarsi ed andare a vedere questo dacci qualche occasione in cui vedere questo film allora la prossima occasione appunto per il festival è all'Adriano sabato 26 quindi questo alle 18 oppure è un orario buono potete prendere i biglietti o davanti si chiama il sito è Boxall Roma cinema fest punto boxall punto it cercate war war on education la sala è la sala 3 dell'Adriano quindi grande ma non grandissima quindi affrettatevi poi ci sta appunto per invece diciamolo anche per i giornalisti però c'è l'anteprima stampa alle 11 al cinema Giulio Cesare lo stesso giorno poi ci sta andiamo a Torino il 4 novembre in collaborazione con il collettivo Beauty Studio che è un collettivo ucraino di artisti ok e staremo al quartiere Checky Point che si chiama proprio quartiere Checky Point il luogo ok non è solo un quartiere e quindi lì il 4 poi il 5 al City Life Anteo Milano Milano alle 21 e 30 ok e quindi questo per ora in Italia e poi c'è una piccola data a Strasburgo ok potrebbe esserci vai vai scusami il 7 novembre sarà parte del tra proiettato al World Forum for Democracy al Consiglio d'Europa a Strasburgo che bello che meraviglia a proposito di Europa probabilmente lo vedremo anche in distribuzione su Mubi con i suoi tempi sì 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 esatto la distribuzione si sta muovendo è una distribuzione importante che ringrazio Off the Fence e quindi lo vedremo insomma in vari in vari posti a breve cosa utilizzare per rimanere un po' aggiornati su questo a parte il tuo i tuoi social forse sì sì io Steph Di Pietro è il mio diciamo Instagram poi ci sta per le attività generali della mia produzione è dimr.eu quindi d come d end i i m r ok ora mettiamo mettiamo tutto stiamo anche registrando queste interviste mettiamo tutto nella descrizione del video così e poi ci sta oneeducation.org chiarissimo ah ok va bene è la cosa più facile da Whatsapp arrivano dei messaggi buongiorno Stefano grazie per la tua testimonianza la guerra portando allo stato di necessità estremo penso che faccia assaporare i piccoli gesti di cura è giusto valorizzarli con lunghe inquadrature dice quindi sì siamo approvazioni di Fabrizio grazie Fabrizio sì siamo molto d'accordo e appunto la cura e l'attenzione poi quanto le persone si prendono cura delle altre mentre in una società diciamo ipercapitalista solipsista questi vengono a mancare assolutamente grazie davvero anche perché questa è un'anteprima dell'anteprima perché war on education è in anteprima a lì c'è una città mondiale no in Italia in altri paesi abbiamo già fatto proiezioni ma non ancora abbiamo fatto Buenos Aires Amsterdam Berlino Bruxelles insomma tanti posti che neanche so perché diciamo è difficile seguire tutto però in Italia è la prima assoluta ci chiede Raffaele se possiamo ripetere l'appuntamento al Giulio Cesare al cinema il cinema il cinema il cinema teatro insomma il Giulio Cesare però mi sa che la proiezione stampa si anteprima stampa quindi non è per il pubblico se c'è un accredito magari in qualche modo recupera alle 11 mi sembra altrimenti sabato 26 ottobre 1024 al cinema Adriano sala 3 alle 18 alle 18 grazie mille Stefano la tua ultima scelta musicale c'è un certo Mark Lannigan ma anche un certo Moby e un altro certo Chris Christopherson come mai hai scelto ma perché Mark Lannigan lo adoro lo adoravo purtroppo se n'è andato non troppo tempo fa e questo è un pezzo molto su sulla nostalgia molto molto bello che volevo lasciare condividere condividere grazie Stefano a presto grazie davvero grazie a voi grazie a voi grazie a voi